Stiamo girando un video Cosa ti racconti di nuovo? Ecco, racconto che c'era qualcosa di sospeso con te Non c'è nulla di sospeso con me No, no, tanto no No, no, niente No, qualcuno ti aveva dato un incarico ma io l'ho dato Ah, basta, allora magari solo l'intendente Roberto, sì, avevo detto di interessarti alla radiomania per comprare Ah, sì, sì Sì, sì, comunque io non te l'ho detto Ok Quindi niente Ok Già a posto, benissimo E tutto a posto un tanto? Sì, meno male Le cose non ce ne sono Le cuffie a posto? Le cuffie li sto usando, sì Sono contento? Sono un po', grazie perché è una Niente, figura Ho dovuto far riparare quella roba Eh, vabbè Ma queste qui sono molto meglio Secondo me Sì, sono Sono da professionista Certamente Poi La di caro mio Uno ti vede con quella cuffia lì Quello è un personaggio importante Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, va bene allora Eh sì Salute allora Vedi, auguri, eh Altre da Grazie a tutti Grazie a tutti